Sono Chiara Leghi, responsabile marketing del Museo d'Arte Cinese e del Geografico di Parma. Oggi vi ho presentato un importante progetto sostenuto dall'Ibc e operativamente svolto da Artetipi. Un progetto molto importante perché mette innanzitutto in rete vari soggetti del territorio per la promozione del museo e poi perché coinvolge operativamente i giovani nell'operatività appunto del Museo Cinese. Oggi più che mai è importante investire per noi nel nostro territorio perché il Museo Cinese è conosciutissimo all'estero e è uno dei musei più importanti in Italia per quanto riguarda anche solo la collezione d'arte cinese però è importante per noi recuperare il legame col territorio di Parma e quindi questo progetto in specifico ci permette della valorizzazione nel territorio. Per Parma è un museo molto importante perché è nato nel 1901 per volere di San Conforti e dei missionari che hanno raccolto durante tutti gli anni i più bei reperti durante i loro viaggi nei cinque continenti. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!